Quello che i sindacati avevano previsto si sta puntualmente verificando e l'opportunità di un rilancio dell'economia del Molise rappresentata dall'area di crisi rischia di svanire nel nulla, perché la regione continua a perdere tempo prezioso. Così i segretari regionali di Cigelle e Cisleguil hanno scritto ancora una volta al governatore Paolo Frattura denunciando la situazione di pericoloso stallo che si è venuta a creare attorno alle procedure per l'avvio dell'area di crisi. La richiesta è perentoria. Tutti i soggetti che fanno parte della cabina di regia, istituita proprio per affrontare in maniera organica l'intera operazione, devono ricevere con urgenza tutta la documentazione, compreso l'accordo di programma sottoscritto al Ministero. Non solo, va necessariamente e urgentemente avviato in via formale il confronto con il Governo centrale sulla proroga degli ammortizzatori sociali riferita al Molise. Va infatti ricordato che per centinaia di lavoratori scadranno nel corso del 2017 ed occorre quindi mettere in campo tutti gli strumenti necessari per garantire loro un sostegno al reddito. Ed anche la richiesta di attivare attraverso i centri per l'impiego le procedure per la profilazione dei lavoratori sembra essere caduta nel vuoto. I sindacati ritengono velleitario ritenere possibile fronteggiare la grave crisi che ha travolto il Molise solo con le poche risorse a disposizione individuate al momento. Significherebbe, scrivono i sindacati, fallire l'obiettivo. Cigelle e Cisleguille lanciano l'ultimatum al presidente Frattura. Se nel giro di pochi giorni non arriveranno le disposte che attendono da mesi scatteranno iniziative di protesta clamorose e dirompenti per evitare, concludono i sindacati, che tanti lavoratori dopo aver perso il lavoro perdono anche la certezza di una nuova occupazione. Non si può giocare con la vita delle persone e il monito delle parti sociali.